Ciao, sono Anna di Yemian Pagan Folk. Questo video è stato girato da Yann e vi raccomando mettete un like sulla sua pagina. Ciao! Iria è in nostro secondo album, Chimea. È anche sulle nostre pietre e le nostre montagne grie, le vetture e le nuove. Chimea. 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 Via, via antica di Mora, di popoli e fanti, tanti pagani all'ombra del noce, uomini di cervo che danzano al sole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.